Sono Paolo Mossone, direttore dell'IMC, Centro Marino Internazionale, un ente del Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Sardegna. Ci occupiamo in particolare di Scienze del Mare e qui presentiamo un progetto cluster, il progetto OstriNova, che è un progetto condotto con una rete di imprese per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione e lo sviluppo della ostricoltura in Sardegna. Uno degli elementi qualificanti, direi il più qualificante probabilmente, è la possibilità di prevedere attraverso lo sviluppo di un modello, proprio la crescita delle ostri che è in allevamento e quindi un supporto anche all'imprenditore che in base alle qualità ambientali nelle quali si vuole localizzare, riesce anche a definire una funzione produttiva e quindi sapere le quantità che riuscirà a produrre nel tempo. Ovviamente è un progetto più complesso e con un'attenzione fondamentale anche alla componente della sostenibilità e quindi degli impatti, degli allevamenti sugli ecosistemi.